Si sono accesi i riflettori, la musica è partita e per una notte, una sola notte, San Piero Assieve è diventata la capitale dell'estate mugellana. Buona musica e tante persone, questa la coppia vincente firmata in gorgo sonoro, che anche quest'anno non ha tradito le aspettative della sua undicesima edizione, portando nel comune San Piero oltre 20.000 persone, tutte intente a muoversi al ritmo di musica e a farsi trasportare dalla folla tra le vie del centro storico. Sì, perché ad un certo punto è la folla che comanda, è la folla che anno dopo anno ha reso questa manifestazione un evento cult dell'estate, coinvolgendo anche un consistente numero di persone distanti geograficamente, ma pronte a mettersi in macchina per tuffarsi in quell'ingorgo di suoni, musica e parole che da anni troneggia tra i calendari degli eventi estivi. Grazie a tutti!